Ti auguro sicuramente altri 25 anni, 50, di grande cinema sull'isola di Capri, con Capri Hollywood, a partire dal prossimo anno, quando speriamo di poterci rincontrare e riabbracciare di persona. Anche la Rainbow compie 25 anni quest'anno e so cosa vuol dire lavorare duro, con tanta passione, tenacia e anche capacità per riuscire a portare avanti le nostre idee, i nostri sogni e le nostre passioni. Sono qui con la mia amica Blu, con la quale è possibile anche accorciare le distanze senza rischiare nulla, per farti i migliori auguri per l'edizione del 25ennale di Capri Hollywood, 2020, con il grande cinema internazionale, da Capri per il mondo. Ciao!